Il questore di aggregento Tommaso Palumbo ha accolto al mattino di oggi i nuovi dirigenti alla divisione anticrimine e alla sezione di polizia stradale. In particolare il vicequestore Giussi Inter Donato di Messina, laureata in giurisprudenza, assume la regenza della divisione anticrimine al posto di Daniele De Girolamo in equiescenza dal 1 aprile scorso. Il commissario capo Sonia Zicari, aggregentina, laureata in giurisprudenza, è stata invece assegnata la direzione della polizia stradale di aggregento al posto del vicequestore Andrea Morreale, adesso a capo della polizia stradale di Palermo. La presentazione nella sala San Michele della questura. Due figure molto importanti, non direi solo la questura, direi proprio la polizia di Stato. La dottoressa Zicari rappresenta la specialità della polizia stradale, è un'articolazione estremamente importante nell'ambito della sicurezza e della viabilità che abbiamo sul territorio e la dottoressa Inter Donato invece reggerà uno degli uffici più strategici se vogliamo per il questore, perché la divisione anticrimine esprime una proiezione di sicurezza propria del questore nell'ambito di quelli che sono i provvedimenti a sua firma, sia per quanto riguarda le misure personali che per quanto riguarda le misure patrimoniali. Perciò entrambe le funzionarie sono un elemento strategico in quella che è la proiezione di sicurezza della polizia di Stato sul territorio agrigentino in particolare. Intanto ringrazio il Dipartimento e quindi anche il signor questore per avermi dato questa opportunità di intraprendere questa esperienza per me assolutamente voglio dire formativa e sicuramente che mi comporterà anche impegno e attenzione. Il territorio agrigentino non lo conosco bene per quanto io sia siciliana, quindi il mio primo approccio sarà sicuramente di conoscenza del territorio attraverso un lavoro di analisi e chiaramente di studio e poi chiaramente applicheremo tutte quelle che sono i provvedimenti e seguiremo tutti quelli che sono gli strumenti a disposizione del questore per poter garantire la sicurezza e la tutela del cittadino. È un ritorno, il mio, in una veste diversa che comporterà veramente un impegno importante per quanto mi riguarda la sfida sarà sicuramente affrontata con dedizione e sono certa che con l'ausilio, come dicevo prima, dei collaboratori il tutto verrà più facile al fine di garantire la sicurezza su strada, non soltanto però attraverso un'attività di repressione ma soprattutto con un'attività di prevenzione, quindi di formazione è informazione tanto cara alla specialità, alla polizia stradale nei confronti dell'utenza.